musica Salve a tutti e bene raga nella cucina di Lorenzo stiamo qui per iniziare a preparare la cena quello che abbiamo oggi sono 4 cotolette bocconcini di pollo Alimelle Alimelle Questo è il cocktail no dai possiamo iniziare a preparare perfetto la prima cosa devo trovare le padelle bella la padella l'abbiamo con quella ci cuciniamo cosa ma io ho fame e devo crescere le crocchette le patte la metti qua ma che ci metti l'alberto non l'avevo da togliere e ti serve un po' il limone il limone l'olio il limone il limone allora mi ha premuto le noce del coco nel frattempo che Marika prepara l'olio perchè siamo qui stasera perchè? per presentare sto tappo di sughero e fa la parte del nostro canale ma che so io non lo scrivo a zittela no ecco le cose siamo qui infatti a casa di Lorenzo perchè siamo dei rapper non è vero perchè stiamo per vedere dopo aver preparato la cena e mangiato dei film due film che non vi diremo che saranno oggetto della nostra prossima recensione ricordiamo che sono le 8 e 10 le 20 e 10 di sera e il giorno è il 2 novembre 2012 perchè a te è utile ed in cesta mi hai avuto dei piccoli ritardi col video il problema è che mi sto a mangiare salame il problema è che è troppo piccante freddo salame stavano ricensione dentistica questa no da mangiare scusate ma non mi sembra fare i dati non mi pare le voce che sono non mi madre che mi castiga che altro possiamo dirvi? Ivano il segreto per un buon che io qui se dovete fare cosa dov'è? non sai che vedi se eh no no rimetti a passettini allora Ivano nel frattempo i due ma mi c'è la voce del cocco con questo nel frattempo che i due stanno di là a cucinare anzi solo Marika e Lorenzo sono andato finta no Luca hai detto che cucina di media stiamo intrattenendo il pubblico di youtube dai team prima cosa vogliamo ringraziare le visualizzazioni che sono Ivano sorriti tante sono tante si perchè ci sta qualche utente di youtube e non molto simpatico ok accettiamo tutto al massimo quasi quasi questo quello sta famose troviamo l'indirizzo gli prendiamo tutto a casa gli imboccavo a casa a parte questo cosa possiamo dire che la vita è bella la vita è bella anche perchè c'è il film quindi non è bella perchè è bella non è bella perchè è varia ah no e poi vabbè ringraziamo le visualizzazioni i commenti costruttivi che ci hanno fatto niente poi facciamo questo video per salutarvi tutti quanti e vi vogliamo abbastanza bello bocconcini a riso spice comprate il meglio e l'indirizzo dei megugori qua ma che megugori guarda ma non c'è credo ok non ne facciamo più eh cosa è il piatto qua oh ma è farina hanno fatti televisioni pure ultra piatti cioè mmm chiedetevi stupide i popcorn buona buona sana volenta vazzura complicità occulta a divano un lambrusco emilia per vino frizzante ah lo apriamo? si allora apriamo si guarda davanti agli amici di youtube questo che è dolce apposta ah ma è ronco ah ma è ronco oppure che eh auguri si smiffa senti smiffa non c'è tanto niente ma è sempre affaldista affaldista ah 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 operiamo dottorio operiamo ok senti oh Ivan vai fare tutti i piatti la piatti si si la piatti la piatti la piatti la patatine grazie salutiamo fuo Vico perchè il suo canale è troppo bello allora salutiamo anche gli altri canali e non c'entrava che sono il canale di Dario Moccia che mi piace veramente tanto si e che seguo il canale di parliamo di videogiochi ovviamente e PewDiePie anche PewDiePie che sta diventando sempre più famoso piano piano che passano i giorni siamo arrivati a 2 milioni e 500 mila utenti che hanno messo mi piace ah si praticamente uguali no si praticamente sono i nostri utenti e poi gli altri canali perché siamo noi che facciamo pubblicità a PewDiePie si si poi non lo sapete però ecco Raison Club si che è bello molto bello si mi hanno detto che è molto bello io lo consiglio poi soprattutto il ballerino è meglio del gruppo si il ballerino il ballerino ha avuto un sacco di successo è regolare niente salutiamo Gianluca Ivano Marika Lorenzo che è di là per la telefona col cugino ma si brucia tutto che si sta bruciando tutto stai attento e cucina ho capito ma esisto anch'io sta fermo e che altro dire aspettate una settimana circa per il nuovo video che appunto sarà la recensione di un film un film a caso un film a caso horror horror del 1984 diretto da non è vero non andate a cercarlo tanto ma chi non esiste e niente bella Mentre altri lavorano altri lavorano e noi mangiamo noi che mi parassieri della società senti di là che parlano e cucinano per noi le nostre donne per cui era madre una donna 8 e mangiate intanto ho spostato il divano di 8 risometri qua raga che altro dire un po' nei patatine oia se anche la donna che per pasua bella io me lo mando mi dai una mano prima che riva l'oretto dai questo è che può non mi adorare raga è successo metti solo è un po' il problema è zitto poi a voi si vabbè si hai mo finito di mangiare dai andiamo a sparicchiare la mamma via 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 vai via 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 dammi la mano dammi la mano bella italiana uno gliele e non e disco vi lasciamo al video anche se non c'abbiamo un disco dentro ci vediamo alla prossima settimana con il prossimo video intanto gustatevi questo che è questo l'avete già visto quindi rivedetevelo aggiornando la pagina citate bye bella 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 ciao Grazie per la visione!